buonasera a tutti sono effettobari rosemary good evening everyone I'm back I'm effettobari rosemary oggi voglio provare di fare la torta alla macedonia con cosa ci vuole con fare per fare questa torta alla macedonia ora vi faccio vedere tutti gli ingredienti che mi serve a me per fare la mia torta alla macedonia ah 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 scusate le balbette mi tocca prima tagliare tutte a pezzettine le frutte e poi si parte per poter cominciare a fare questo questo total ma cosa da fare è tagliare tutta a pezzettino le frutte e poi si parte a fare la torta alla macedonia si parte a vedere tutte le frutte che mi serve a me per fare la tutta la macedonia. Qui abbiamo le fragole, la bicocca, l'uovo, la pera, la pesca, limone, kiwi, la banana e yogurt. Si parte per cominciare a tagliare le frutte. Tagliare le frutte a piccoli pezzi. Ricordatevi, io non sono una cuoca né un pasticcera, io lo sto facendo per divertimento. Come Cova 19 ci ha fatto restare a casa, così un'amica mi ha consigliato di fare qualcosa, così ho partito per il gioco a preparare queste cose qui, facendo anche mangiare della mia terra della Nigeria e poi faccio anche una specie di cuoco dove lavoro io, quindi cuscino anche dove lavoro io, quindi fare queste cose qui fa parte anche della mia quotidianità. Quindi mi viene proprio bene, mi viene spontanea essere sempre in cucina a preparare da mangiare, al lavoro e a casa. la mia figlia ha fatto, non ho capito che gesto è, ma l'ha fatto. Si ha tossito, dici lei, perché mangiare chi la fa a questa casa? Mamma. Lavoro chi la fa a mangiare? Sempre mamma, va bene così. Quindi bella gente, è così che funziona. La mia mano sempre nell'acqua a preparare da mangiare sia al lavoro sia a casa. Sto tagliando la frutta, la mia figliola sta montando qui. Due uova, poi 200 millilitri di yogurt al limone, 50 millilitri di olio di semi o burro e 150 grammi di zucchero semolato o di canna. In questo caso noi abbiamo messo quello di canna. Vedete com'è spumoso il composto? Sono tutti tagliati a pezzettini, ora si parte per l'impasto. L'impasto è stato montato con le uova, lo zucchero di canna, l'olio di semi e lo yogurt al limone. Ora invece andiamo a mettere la farina, possibilmente a pioggia. Ora invece finiamo di miscolare tutto l'impasto con la farina e aggiungiamo lentamente la nostra spezzettina di frutta. Ora che l'impasto è pronto, lo andiamo a mettere in una tela da 24 cm imburrata. Il momento di infornare la nostra torta da macedonia per 180 gradi per 45 minuti. Avete visto? La nostra torta sta procedendo alla perfezione. Cuoce bella! Come faccio di solito? Wow! La torta è pronta, ora lo lascio al forno per qualche secondo e poi lo falcisco e vediamo un po'. La torta la macedonia è pronta, guardiamo e taglio come viene. La torta la macedonia è pronta, guardiamo e taglio come viene. La torta è pronta, guardiamo e taglio come viene. La torta è pronta, guardiamo e taglio come viene. La torta è pronta, guardiamo e taglio come viene. Grazie.